Se abbiamo parlato qualche tempo fa del film della prima parte dell'estate, ovvero Barbie, e ve lo faccio apparire qua, non posso, adesso che l'estate è finita e che l'Italia è arrivata un po' in ritardo, ma va bene, non fa niente, non posso non parlare dell'altro grande film che ha segnato l'estate, cioè grande in senso sia di qualità per me, sia anche di forza, di potenza, di impatto produttivo, eccetera, ovvero Oppenheimer, sono Emanuele Rauco e vi do il benvenuto sul mio canale in questo nuovo video. Se non mi avete mai visto, siete arrivati qui per caso, oppure ogni tanto capitate, iscrivetevi e attivate la campanella, così potete essere informati dei nuovi video, delle notifiche e se vi piaccio vi posso dare delle soddisfazioni. Se invece siete già iscritti, grazie mille, potete supportare il mio lavoro abbonandovi o offrendomi un caffè su Beami e Coffee. Potreste sentire dei rumori in sottofondo perché questo è il kindergarten Rauco di agosto, però non fa niente, non è un problema, ho usato questo escamotaggio del microfono da call center proprio per evitare troppi rumori d'ambiente. Dicevo, Oppenheimer, allora il film che è uscito un mesetto di ritardo in Italia, vabbè, ma chi se ne frega, non sono cose che a me danno fastidio particolarmente, cioè il problema eventualmente poi è dei distributori, si incassano meno. Ora, stando ai primi giorni d'uscita, non mi pare che questo sia un problema. Io poi tra l'altro l'ho visto in sala con il pubblico, non proprio nel modo in cui Nolan avrebbe voluto che lo vedessi, cioè in una sala piccola dell'Atlantic, che è il cinema sotto casa, io vivo abbastanza in periferia a Roma, ed è, e non è proprio il cinema meglio tenuto di Roma, e la proiezione non è proprio la proiezione meglio di Roma, e anche l'audio, bla bla bla. Detto questo, però il film me lo sono goduto e l'ho apprezzato molto, certo un po' meno del 70 mm in IMAX, ma chi se ne frega, scusate qui ci sono dei cavi che burano. Dicevo, Oppenheimer, per chi non lo sapesse, è una biografia relativamente, cioè come può essere biografico un film di Christopher Nolan, su, non tanto la vita, quanto il ruolo di J. Robert Oppenheimer all'interno della costruzione della bomba atomica, e poi soprattutto il dopo. Oppenheimer è stato un fisico che ha guidato il progetto Manhattan, il progetto Manhattan è quel progetto sostanzialmente dell'esercito americano che ha permesso la costruzione della bomba atomica, a quelle due bombe atomiche che poi sono state sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Ora, il film non racconta la vita, cioè racconta dal momento in cui Oppenheimer capisce che con la scissione dell'atomo si può creare un'arma, fino al momento in cui, fino, come dire, dopo la guerra, lui diventa un personaggio importante all'interno della politica statunitense, questo però gli crea dei problemi. E infatti il filo conduttore è un'udienza, non è un processo, però è raccontato come se fosse un processo, un'udienza in cui Oppenheimer deve fronteggiare i suoi accusatori che, sfruttando i suoi precedenti e i suoi rapporti di vicinanza con il Partito Comunista americano, siamo intorno al periodo del maccartismo, cioè quando anche solo avere, come si dice nel film, anche solo avere un puntino rosso sulla maglietta ti faceva essere tacciato di essere comunista, e questo significava essere un criminale nell'America di quegli anni, non c'era quindi una vera e propria libertà di pensiero e di scelta politica, e quindi, sfruttando il fatto che il fratello era iscritto al Partito Comunista, la moglie era iscritta molti anni fa al Partito Comunista, bla bla bla, americano, cercano di boicottarlo e cercano di screditarne la figura, negandogli dei permessi per fare delle cose che avevano a che fare col suo lavoro. E su questa striscia, cioè su questa linea, il film va a ricostruire la storia. Ora, evidentemente, è un film di Christopher Nolan, peraltro, se volete saperne di più su Christopher Nolan, il prossimo video che è pubblicato sul canale sarà proprio in Chiedi Chi era, a Christopher Nolan, per fare una panoramica un po' più completa del suo cinema. Capite che non è una biografia tradizionale, quindi si usa quella storia lì per cominciare a nestare tutta una serie di tasselli che vanno avanti e indietro nel tempo, dai suoi inizi fino, appunto, al post-udienza. E quindi capire tassello dopo tassello, ecco, fa una cosa molto interessante. Alberto Crespi, che è un critico che stimo molto e che probabilmente vedrete sul mio canale in una delle prossime live, in una dei prossimi Caffè e Noccioline, dice che, lui lo dice in senso, diciamo, dispregiativo, non è un estimatore di Nolan, dice che Nolan fa film semplici, anche troppo per lui, e li complica per non farsi sgamare. O io dico un'altra cosa, invece, che lui utilizza un modo di, come dire, di enigmistico di raccontare per rendere più interessante, intrigante, avvincente tutta una serie di strutture di racconto. Non sempre, però sì, cioè, in senso, molto spesso sì, cioè, memento, no? Il fatto di essere raccontato al contrario rende più intrigante il mezzo narrativo del noir classico. In questo caso il biopic, e quindi il divulgativo è un film di grande forza divulgativa che vuole raccontare un personaggio e le vicende intorno a questo personaggio, raccontare un paese intorno a questo personaggio, la grande forza divulgativa di Oppenheimer è, come dire, subordinata invece alla grande fascinazione del racconto che non va in, come dire, non va in lineare, ma proprio come un thriller c'è una scia e siccome ogni tanto in questa scia entrano dei tasselli, questi tasselli ampliano sempre più il quadro. e quindi proprio come in un thriller, in un thriller legale in questo caso, nel finale scopriamo una cosa che, come dire, la fabula del racconto avrebbe messo all'inizio. E questo è un modo interessante per chi conosce superficialmente la figura di Oppenheimer, per esempio come me, che conoscevo superficialmente, e però può essere anche un modo per chi invece la conosce in maniera più ampia di arricchire il racconto anche perché ovviamente nell'arricchire c'è intanto il fatto che sta raccontando il contesto, sta raccontando l'America e perché in questo senso ci mette dentro anche il suo stile. Andiamo per gradi. Il contesto, quindi la storia e l'America, quindi il discorso più profondo. Il nucleo del film, il nucleo centrale, non la cornice che è appunto questa udienza, ma il nucleo del film è ovviamente tutto il lavoro per arrivare a produrre questa bomba atomica e il culmine narrativo e anche emotivo non è l'esplosione, non è lo sgancio su Hiroshima e Nagasaki, ma il test poi arrivo alla fine del video a come dire due o tre cose su questo discorso in senso politico e il test e quindi tutta la tensione è questa bomba che siamo riusciti dopo anni a metter su funzionerà? Distruggerà il mondo perché a un certo punto non si paventa l'ipotesi che la reazione a catena possa non finire mai e quindi questa bomba possa dar fuoco a tutta l'atmosfera terrestre. questo picco narrativo e quindi questo tutto grande nucleo si svolge in un luogo preciso lo Salamos che è una mesa cioè un altopiano diciamo così per chi ha letto Cormac McCarthy sa cosa è una mesa è un altopiano in cui si come dire si dice si accenna al fatto che viene espropriato agli indiani che lì hanno un enclave diciamo e viene utilizzato e quindi è un posto che ha a che fare con il western è un posto sperduto come dire nelle montagne al confine al confine tra mondi al confine tra nazioni al confine tra civiltà in cui viene costruita una civiltà una città che poi deve portare la civiltà al resto dell'America e del mondo attraverso le armi la violenza e questa è una cosa molto western anche perché poi il luogo è appunto quando arrivano dentro questa fortezza dove si svolge l'esperimento Manhattan il progetto Manhattan la moglie Emily Blunt dice a Oppenheimer che è Killian Murphy gli dice manca solo un saloon perché è proprio una cittadella del western e loro si spostano a cavallo vivono proprio secondo dei moduli del western e qui c'è un eco l'eco appunto della civiltà ma il western è anche appunto l'epica dell'America non è solo è l'epica cinematografica perché il cinema è ciò che per l'America è stato il poema epico per la Grecia e per l'Europa e anche per tutto il resto del mondo in America non ce l'hanno perché giustamente sono nati nel settecento c'hanno il cinema però è questo è quella la loro iliade la loro odisse sono il cinema e sono il western soprattutto quindi utilizzare come nucleo narrativo la vicinanza tra un'immagine un'iconografia western e un'arma di distruzione di massa è chiaramente il segno di ciò di cui sta parlando Nolan che è londinese ma però scusate ma però è come dire sente cioè come dire ha capito e racconta delle cose estremamente americane pensate a Interstellar che secondo me è il film più vicino a questo della filmografia di Nolan pensate a Interstellar come è fortemente americano non solo la frontiera ma anche appunto dove si svolge c'è proprio anche lì un senso di western contemporaneo e c'è anche qui western più moderno meno contemporaneo western anni 40 e si ritorna a McCarthy a Cormac McCarthy quello che fa Nolan è appunto raccontare la costruzione della nuova civiltà quando si dice non stai costruendo la nuova arma ma un nuovo mondo è esattamente il nuovo step dei pionieri americani che non si accontentano più di essere andati all'ovest e di aver colonizzato una nazione togliendola a chi ci viveva ma vogliono andare a colonizzare il mondo togliendola a chi ci viveva e nel raccontare questo contesto nel raccontare questa America non può non far riferimento anche a un altro elemento che segna questa nuova frontiera della civilizzazione statunitense cioè la paranoia che gli americani hanno raccontato benissimo soprattutto nel cinema degli anni 70 nel cinema della nuova Hollywood che è la paranoia dopo il Vietnam e dopo Watergate e che qui invece ci dice che è una cosa che viene da prima e la paranoia in questo senso è contro il pericolo rosso contro i comunisti prima contro i giapponesi e poi contro i comunisti quindi racconta un mondo complesso mondo ricco di dettagli e di sfumature e secondo me lo racconta molto bene cioè racconta molto bene cosa è stata l'America in quella decina ventina d'anni che l'hanno fatta diventare l'impero del mondo che ha colonizzato il mondo con l'uso della forza prima della cultura e delle merci e poi della forza e anche poi viceversa insomma e lo fa molto bene cioè lo fa attraverso un'unica persona un'unica persona che è appunto un nucleo da cui si esplode e da cui esplode con una reazione a catena tutto il resto tutto il resto degli Stati Uniti e dell'America è straordinario lo Strauss di Robert Downey Jr che rappresenta come dire l'altra faccia dell'America anche questa è una cosa molto western a un certo punto quando la civiltà diventa politica c'è un'incarnazione del lato oscuro della civiltà appunto che è la paranoia e che è questo personaggio di politico che vuole in qualche modo eliminare dallo scacchiere politico Oppenheimer per dei motivi che non vi dico perché rappresentano come dire il cuore thrilling tra virgolette di thriller politico di thriller legale del film dicevo questa complessità poi ovviamente quindi è un racconto semplice perché può essere raccontato in maniera semplice ma non lo è e infatti il libro da cui è che è ispirato il film non è per niente semplice è un libro che dice tante cose perché racconta è un uomo che è passato dall'essere prometeo e quindi colui che dona il fuoco ruba il fuoco agli dei e lo dona agli esseri umani quindi colui che dà la creazione della possibilità di creare agli esseri umani a morte il distruttore dei mondi quindi si passa dalla mitologia greca alla mitologia induista e quindi morti di struttore dei mondi in un lampo cioè quel lampo lì su cui è tutto il cardine emotivo della sequenza madre del film è il passaggio da prometeo a morte e non può essere una cosa semplice non lo è una cosa semplice quindi complessità complessità di racconto perché ci sono tanti strati perché come una reazione a catena questo nucleo esplode il nucleo di Oppenheimer il personaggio si esplode e si allarga a tutto ciò che è intorno ma anche stile ovviamente Nolan piace giocare con il tempo anche nello stile Tenet in maniera didascalica esplicita ma anche tutti gli altri film Memento dicevamo appunto Quicostanzo gioca con lo stile perché in questo caso la bomba è già esplosa il film è lo stile del film è febbrile estremamente magmatico come se già dall'inizio la bomba fosse già esplosa e quello perdonatemi quello che deve fare Nolan anche come sceneggiatore è ricomporre questo nucleo riprendere tutti i pezzi sparsi da questo ipermontaggio e rimetterli dentro ricomporli secondo un'ottica più diciamo classica così per dire e quindi in questo senso guida lo spettatore da un'estrema ricchezza di spunti che lo possono disperdere questi spunti piano piano come in un'esplosione vista in reverse a ricomporsi e non diventa mai realmente classico ma classico secondo gli stilemi Nolaniani e anche in questo c'è il parallelo tra il bianco e nero e il colore lui ha detto che il colore sono le soggettive ci sono le sequenze viste dal punto di vista personale di Oppenheimer e invece il bianco e nero sono le sequenze più oggettive dove di solito Oppenheimer non è il protagonista della sequenza ma una parte di solito è Strauss per la gran parte del tempo ma non solo questo ci dice anche appunto le sequenze a colori sono sempre più ipermontate fibrillanti non solo di montaggio tra pezzi tra piani narrativi e piani temporali diversi ma anche all'interno della sequenza la scomposizione dello spazio è molto personale tant'è che a un certo punto Amitare diventa davvero soggettiva davvero la pura impressione del personaggio del protagonista e quindi le visioni diventano più surreali ci sono due tre sequenze che si legano una sono due durante l'udienza e una quando viene accolto come un eroe dagli scienziati che hanno lavorato con lui dopo le esplosioni in Giappone in cui la sua percezione diventa la percezione dello spettatore e questa ricomposizione dello stile fa in modo che lo spettatore capisca sempre più sempre meglio durante le tre ore ma anche che lo spettatore senta percepisca in questo senso Nolan è piuttosto postmoderno perché lavora molto sulla percezione nervosa sensolare dello spettatore prima che intellettuale o perlomeno a fianco dell'intellettualità questo è un film più omanista meno cerebrale perché non ha un dispositivo narrativo dietro però comunque racconta una storia di questo tipo con dei mezzi che a lui sono congeniali e nel farlo nel ricomporre questo nucleo e quando alla fine ci troviamo da soli con il nucleo emotivo di Oppenheimer ricomposto e anche lo stile che si è ricomposto intorno a lui noi siamo storditi siamo storditi perché abbiamo vissuto il carico emotivo morale ma anche visivo estetico di cui Oppenheimer si è fatto carico per una vita dicevo un piccolo scendo alle cose politiche che si legano alla soggettiva in parecchi hanno criticato il film per no in parecchi qualcuno ha criticato il film perché appunto rende lo scoppio della bomba qualcosa di spettacolarmente romantico oppure comunque il fatto che tutta la parte orrifica è lasciata fuori campo è lasciata l'immaginazione è lasciata la percezione la suggestione non vengono raccontate davvero le conseguenze non viene fatto vedere c'è una scena in cui durante una riunione mostrano gli effetti delle bombe e noi non le vediamo vediamo la reazione sul viso di Oppenheimer ecco questo secondo me può essere discutibile dal punto di vista dell'opportunità politica soprattutto perché appunto sembra voler mettere da parte sembra voler relativizzare sembra voler far carica un solo uomo del peso di questa cosa dimenticando invece una tragedia collettiva capisco l'obiezione quindi capisco anche però è una scelta di punto di vista forse opportunistica ma anche però resa concreta dal modo di racconto dallo stile di racconto che sceglie Nolan quello appunto di una soggettiva impressionista che come dire che va a rendere non solo la complessità della storia dietro l'evento ma anche la complessità della percezione del singolo che quella storia l'ha messa in moto quindi è una scelta come ogni scelta è discutibile e capisco chi ha puntato il dito contro quel tipo di scelta come se volesse deresponsabilizzare non tanto penamina in sé quanto lo spettatore però è anche un modo per catapultare lo spettatore dentro una soggettività e in un film che comunque ha una forza divulgativa così forte è un paradosso curioso credo di aver detto tutto quello che volevo dire sì se ci sono delle cose che vi vengono in mente che potrei aver dimenticato ditemelo nei commenti e ne parliamo dal punto di vista scritto ha una piccola nota tanto di cappello a Jennifer Lehm che ha curato un montaggio incredibile strepitoso e a Ludwig Goranson che ha fatto una colonna sonora zimmeriana ma estremamente intelligente perché la colonna sonora entra dentro la percezione sensoriale del personaggio e quindi diventa anche percezione sensoriale dello spettatore spero che il video vi abbia interessato vi sia piaciuto non lo so ma che vi abbia interessato che io non abbia detto necessariamente delle stronzate commentatelo ditemi cosa ne pensate e attivate le campanelle le notifiche offritemi un caffè per permettermi di andare avanti con i video il prossimo video come ho detto sarà un chiedi chi era dedicato appunto a Christopher Nolan ci vediamo con i prossimi video le prossime live e i prossimi podcast ciao a tutti